Eccoci di nuovo insieme con grande piacere che ritrovo nei nostri studi Pasquale di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robin Hood, buongiorno, bentornato, è sempre un piacere ritrovarti Pasquale Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori e ben ritrovati anche a voi Con grande invidia vi voglio far notare che Pasquale di Ferdinando ha già una bronzatura che normalmente noi persone normali e comuni abbiamo ad agosto se tutto va bene personalmente forse neanche ad agosto Problema di carnagione Bucciardo Anche di carnagione Ah, quello sì, è ovvio, nel mio caso non lo sono, non perché non vada al mare ma perché ai tuoi livelli non ci arriva a prescindere Ogni riferimento era puramente casuale Allora, con cosa cominciamo questa mattina? Sono tanti gli argomenti, ci sono anche delle novità per i consumatori Come sempre, quando tu sei ospite di una trasmissione porti alcune notizie buone e alcune notizie meno buone Oggi la priorità? No, cerchiamo di essere fifti-fifti Fifti-fifti No, togliamo subito il dente Esatto Sì, una cosa che non comprendo A parte di fatto è un problema proprio contingente quindi partiamo da un problema che c'è nelle nostre zone terremotate La cosa che non comprendo è che essendo l'Italia un paese dove i terremoti ormai sono diventati ogni due anni un'abitudine come mai non esiste una legislazione che sia valida sempre e comunque cioè perché ogni volta che c'è una situazione al di là degli aspetti economici che chiaramente di volta in volta possono cambiare ma perché non c'è una... ci sono procedure standardizzate ogni volta bisogna partire da zero Nel caso specifico la regione Abruzzo il commissario ha fatto un bando che scadeva il 30 di maggio a fine mese a maggio, il 31 di maggio e la regione Abruzzo a differenza delle altre regioni coinvolte in questo terremoto doveva fare il bando con le procedure quindi approvare il modello eccetera, non l'ha fatto per cui nel disagio della problematica complessiva ci sono anche questi ritardi che nella regione Abruzzo sono ormai devastanti cioè stanno lavorando sul terremoto del 2009 quindi di cui stiamo parlando? Punti domani sempre sul terremoto Purtroppo alcune situazioni del terremoto del 2009 si stanno sbloccando solo adesso parliamo di ricostruzione proprio del 2009 per cui siamo indietro di otto anni basta vedere invece in altri comuni che cosa è stato fatto quindi per quanto riguarda in realtà l'altro giorno c'era l'anniversario del terremoto dell'Emilia e hanno fatto il punto della situazione mi sembra una cosa completamente un altro mondo diciamolo un'altra riflessione che ho fatto tra l'altro facevo a cena con un amico era questa qui ma abbiamo tantissime persone che sono collocate fuori dalle case perché giustamente le case sono anche lì passa la commissione e dice che è inagibile passa un'altra e dice che è agibile poi un'altra volta è inagibile poi si fa ricorso e diventa inagibile cioè anche lì bisogna un attimo capire anche i parametri diciamo che il numero delle case inagibili quelle ufficialmente dichiarate inagibili dal comune di Terramo è alto comunque a Terramo ci sono davvero tante e siamo fuori cadere tra l'altro però appunto non c'è certezza anche da questo punto di vista perché ogni squadra che passa e quindi anche il cittadino non sa come muove magari va con l'autonomo sistemazione oppure va in albergo poi forse lo revocano cioè c'è questa situazione ed è veramente imbarazzante perché ripeto il nostro è un paese che diciamo deve convivere così come fa la grande il Giappone con questo tipo di realtà diciamo che i terremoti in Giappone sono un pochettino più forti dei nostri sì sono anche più visto che da noi sono oramai frequenti bisognerebbe cominciare ad adeguare tutto a questa poi neanche nuova realtà perché noi lo sappiamo da sempre che siamo un territorio sismico assolutamente e quindi la riflessione che si faceva appunto a cena era questa vabbè ma c'è gente che ha autonomo un'autonomo sistemazione e quindi ha degli appartamenti affettati c'è gente che sta negli alberghi e chiaramente non ha possibilità di cucinarsi c'è gente che magari sta nel residence però gli viene data la possibilità di mangiare in albergo cioè se uno sta nel residence c'è la cucina ecco sono tutta una serie di cose che veramente è un sentire comune stai parlando di disparità di trattamento avrebbero le persone che sono rivolte alla tua associazione avrebbero denunciato una disparità di trattamento io diciamo questo nel pur parler perché chiaramente su queste questioni non è che noi interveniamo se non appunto da pungolo rispetto a certe procedure però ecco nel pur parler nell'incontrare le persone c'è questa sensazione di disparità di trattamento anche sul fatto quando ci sta il bleccato da luce per esempio molti sapevano del fatto che si poteva andare in albergo per superare quel disagio e come funzionano queste cose non si riesce a capire e quindi da questo punto di vista diciamo una commissione di inchiesta sarebbe opportuna anche di carattere parlamentare cioè rispetto a tutto quanto questa cosa non può il commissario fare una cosa che poi viene applicata nelle varie regioni e le regioni che le applicano e le regioni che non le applicano se ci sia un'azione di commissariamento deve essere uguale da per tutti il commissario fa questa cosa fa un modello il modello deve essere uguale in Umbria, nelle Marche in Abruzzo e così via e questa era più che altro più che una comunicazione di servizio una riflessione su questa situazione che stiamo vivendo io ho fatto dei giri nell'aria interna veramente sono paesi morti ormai c'è questa realtà qui poi contrasta con quello che leggiamo sui giornali proprio una cronaca anche di ieri e di oggi sul fatto che in Abruzzo c'è il boom del turismo beh in questo fine settimana lungo fine settimana del 2 giugno c'è il tutto esaurito soprattutto niente po' di meno che nelle zone interne proprio quelle diciamo alle montagne sì quelle che dovrebbero essere più penalizzate da questa situazione invece per questo fine settimana però parliamo no? oggi, domani e dopodomani c'è il tutto esaurito certo è una buona notizia assolutamente siamo sempre favorevoli al fatto che ci sia fluidità turistica e dobbiamo lavorare affinché ci sia una correlazione più stretta tra territorio prodotti del territorio e il turismo noi abbiamo molto da dare al turismo la nostra provincia è meravigliosa quindi nessuno offre montagna, collina e soprattutto i prodotti tipici sia del mare che dell'interno due notizie abbastanza preoccupanti la scintiligrafia io lo sapevo che partivi con notizie preoccupanti hai detto 50-50 ma da 10 minuti che parliamo solo di cose negative allora la scintiligrafia di Tero non funziona per chi non lo sa la scintiligrafia è un mezzo è un metodo per ricercare la presenza di masse tumorali sullo scheletro qui si inietta una sostanza di contrasto radioattiva tra l'altro questa si concentra nelle zone dove è presente il tumore e quindi consente attraverso una lastra di verificare dove c'è questa concentrazione di accumulo di questa sostanza dove sono le masse tumorali e da quanto tempo funziona la scintiligrafia? questa non funziona è un apparecchiatura molto vecchia la segnazione a due regioni sono arrivate una sola scintiligrafia all'ospedale pare che si stia provvedendo un bando per acquisto urgente di un'altra materia di nuovo sempre collegata purtroppo a questa malattia ai tumori vogliamo ricordare che tra l'altro l'ospedale di Teramo è l'unico ospedale diciamo in Abruzzo capologo di provincia eccetera è l'unica provincia della provincia di Teramo che non ha la PET che cos'è la PET? la PET è un altro metodo diagnostico per rilevare il tumore e la presenza di masse tumorali e in questo caso si basa sulla presenza del glucosio del consumo del glucosio nel corpo e quindi laddove c'è concentrazione si inietta anche in questo caso del glucosio laddove c'è concentrazione del glucosio e lì ci sono masse tumorali che stanno assorbendo questo nutrimento noi ci aspichiamo e quindi i terramani sono costretti a viaggiare andare a Ascoli andare a Pescara con tutto il disagio del fatto che la famosa mobilità passiva ovviamente ecco che tra l'altro poi genera mobilità passiva e quindi costi alla nostra sede comunicazione di servizio e quando riguarda la RAI questo è bellissimo me l'hai detto durante la pubblicità noi che non ci facciamo mancare niente noi che non ci facciamo mancare niente esatto chiaramente nel mese di gennaio quando diciamo i problemi delle persone non erano altri magari dal 18 in poi c'è stata questa scadenza vero? no no a fine mese adesso è quel periodo quindi c'era la neve mancava la luce eccetera quindi la comunicazione non è passata le persone non lo sapevano e così via cosa bisognava comunicare? bisognava comunicare diciamo di non avere l'apparato atto a ricevere le trasmissioni televisive il televisore il televisore il televisore o la televisione o la televisione se questo termine è così strano neanche a caso e allora che cosa bisogna fare? non tutto è perduto quindi abbiamo una nuova scadenza che è il 30 giugno no perché chi non lo ha comunicato paga una cosa paga il canone e non lo dovrebbe pagare solito la bolletta però ce l'hanno data l'opportunità di rimediare visto che insomma stavamo pensando decisamente ad altro in quel periodo allora intanto noi abbiamo fatto questa cosa che abbiamo la risposta per la settimana prossima ci hanno preannunciato la risposta per la riapertura dei termini per ovvero chi lo fa adesso entro il 30 giugno vi varrà sicuramente dal primo luglio a fine anno quindi questo è certo perché lo prevede la legge però diciamo si sta vedendo di farlo far fare questa dichiarazione e renderla valida anche per il semestre precedente per cui non non si parla e la domanda è ma esiste qualcuno che non ha il televisore in casa oppure questa è una situazione che riguarda magari chi ha più di una casa magari una seconda casa può non starci il televisore può riguardare entrambi le circostanze perché magari una persona c'ha la residenza qui però lavora a Roma per cui dove c'è la casa se non ha il televisore dunque riguarda comunque un numero abbastanza sì oppure insistente di persone perché a me mi sembra impossibile pensare a una persona che non ha il televisore in casa nemmeno uno sì io ho avuto sono dei casi particolari insomma di situazioni io ho fatto un'intervista all'Auditel quella per quando riguarda la carta stampata e la si parlava anche di computer e il dato che sta emergendo da questa indagine è che tantissimi anche noi pensiamo tutti quanti diciamo il computer tutti quanti non è così non è così molte volte la tv è un'altra cosa è veramente pensare che uno non è una tv però insomma quella è una tua certificazione ognuno sa su responsabilità di quello che scrive di quello che dice per quanto riguarda i rimborsi della luce molti sono lamentati anche in associazione perché dicono ma come allucinami ha già arrivato il rimborsi ma no allora allucina tu con chi c'è il contratto allora ricordiamo che noi abbiamo un sistema perché i rimborsi della luce stanno arrivando in base al tipo di contratto che abbiamo e con chi lo abbiamo soprattutto assolutamente sì allora noi abbiamo ricordiamo ai telespettatori o anche chi non ha sentito mai abbiamo un sistema ancora binario per quanto riguarda la liberalizzazione l'autorità ha già per due volte rinviato il termine della liberalizzazione totale perché attraverso degli studi abbiamo parlato anche in trasmissione altre volte si è verificato che quello che doveva portare la liberalizzazione quindi maggiore competizione abbassamento dei costi miglioramento dei servizi che ha funzionato per quanto riguarda la telefonia siamo a meno 64 cento rispetto una volta era quasi un lusso avere il telefono oggi i costi te li tirano dietro per quanto riguarda appunto il sistema luce e gas l'autorità non ha ancora liberalizzato completamente perché il settore non è ancora è stato ritenuto non ancora maturo in quanto i costi sono ancora troppo elevati quindi esiste un regime che è il cosiddetto regime di maggior tutela che nel caso specifico della nostra provincia dove abitiamo viene gestito dall'Enel servizio elettrico anche qui quest'anno siccome per diversificare e quindi non creare confusione per il consumatore perché prima c'era l'energia e nel distribuzione e nel servizio elettrico e nel distribuzione è diventata e distribuzione quella a quale abbiamo poi rivolto le domande nel caso in cui la sospensione superiore è tre giorni e mezzo l'Enel servizio elettrico è diventato servizio elettrico quindi hanno cambiato anche le bollette che l'energia è rimasta tale quindi essendo l'Enel energia e servizio elettrico nel mercato di maggior tutela i clienti della maggior tutela hanno avuto il rimborso prima quindi ci sono arrivati i rimborsi per questi soggetti per gli altri quindi ovvero coloro che sono sul mercato libero arriveranno però diciamo abbiamo avuto assicurazioni che arriveranno nei prossimi giorni chiaramente coloro che hanno fatto richiesti rimborsi che non sono automatici quindi diciamo lamentando dei danni altra cosa è chiaro che l'esame di quelle pratiche comporta del tempo e quindi diciamo avverranno avverranno la normativa della delibera dell'autorità d'altro canto prevede e leggifera solo sui rimborso automatico quindi non leggifera sul da dei tempi per quanto riguarda gli indennizi automatici e non per quanto riguarda gli altri indennizi che molte volte potranno essere anche oggetto di cause quindi però la buona notizia è che anche se a scaglioni i rimborsi arrivano si stanno arrivando ricordiamo tutti coloro che hanno avuto un'interruzione superiore a tre giorni e mezzo qualora non hanno fatto la domanda devono fare la domanda per avere l'indennizio automatico anche per il periodo superiore a tre giorni a tre giorni e mezzo abbiamo una notizia che è impressionante perché l'autorità l'antitrust ha fatto lo scorso anno oltre a 300 milioni di multe alle società una notizia che come le cose c'è due aspetti una doppia faccia uno se l'autorità fa tutte queste multe vuol dire che siamo messi male perché tenendo conto che l'autorità non dispone di mezzi limitati cioè limitati facendo tutta una serie di considerazioni se riesce a sanzionare a questi livelli il sistema paese è messo male d'altro canto noi che viviamo come associazione consumatori le problematiche consumatori tutti i giorni lo sappiamo perfettamente nel senso che ogni giorno ce n'è una segnalo a tal proposito alcune situazioni abbastanza spiacevoli c'è una promozione di poste dei mobili per quanto riguarda la telefonica di casa che è abbastanza cioè è sicuramente conveniente per quanto riguarda i pensionati infatti è interessato da loro il problema è che poi non funziona come non funziona non funziona cioè nel senso che si telefona poi non funziona il passaggio non funziona e bisogna chiamare un numero che è un numero a pagamento e nonostante riterate telefonate diciamo questa situazione si sblocca ma non funziona per niente o funziona tipo a singhiozzo a singhiozzo cioè nel senso che a volte va a volte non va si fanno fare le prove le coccette ti tengo al telefono 8 euro una volta 9 euro un'altra volta 10 euro un'altra volta perché la domanda è sempre la stessa ma c'è una malafede dietro oppure un contrattempo un imprevisto che per risolver lo bisogna passare per forza per il pagamento siccome non sappiamo né legge né scrive quando meno in via cautelativa diciamo che insomma bella non è allora inutile che state a telefono spendete soldi eccetera bisogna formalizzare il reclamo quindi fate un reclamo per iscritto lo c'è un'associazione consumatori a qualcuno che conoscete che possa fare il reclamo qualora perché parliamo di pensionati e parliamo di pensionati che magari non hanno gli strumenti per fare un fax per fare una raccomandata così via quindi rivolgetevi a qualcuno mandate subito un reclamo scritto c'è la possibilità attraverso il core con Abruzzo di avviare una procedura cosiddetta procedura d'urgenza un GIU14 che consente la lavorazione entro dieci giorni della pratica quindi siccome quando poi le società accumulano tanti GIU14 sfavorevoli vengono sanzionate e quindi hanno un interesse poi a risolvere questo quindi piuttosto che perdere tempo a spiegare i soldi seguite questo canale qui sempre a proposito di Corecom siccome quando c'è stata la famosa nevicata abbiamo avuto problematiche di carattere elettrico ma a fianco delle problematiche di carattere elettrico abbiamo avuto anche problematiche di carattere telefonico sono oltre 1500 tutto è inutile rifare l'elenco di quello che abbiamo avuto a gennaio perché è lunghissimo di tutto l'acqua poi è un discorso che abbiamo affrontato dopo nel senso di recente è mancata pure l'acqua dentro l'abitazione è mancata l'acqua sono girate le condotture diciamo che la mancanza di acqua quando fa tanta neve fa tanto freddo è quasi normale nel senso che no perché davvero dove non ci sono i sistemi di protezione si gelano le tubature ovviamente l'acqua si è rotta diciamo che quello è quasi chi è abituato al freddo alla montagna che è abruzzese lo sa e il resto che è stato un evento eccezionale e quindi in pratica per quanto appunto concerne questo aspetto relativo alla mi sono perso il filo va bene scusate tu lo sai mi conosci lo sai che la mattina non te lo puoi perdere il filo se tu te lo perdi io me lo perdo appresso a te perché mi distraggo e non lo recupero sì comunque c'è un motivo di distrazione giustissimo ed è un messaggio esatto buongiorno tutto quello che dice Pasquale è molto interessante se riuscisse a parlare un po' più lentamente sarebbe maggiormente comprensibile a noi telespettatori saluti Carlo ciao Carlo intanto un saluto affettuoso uno ha ragione Carlo intanto caro Carlo una cosa con Pasquale siamo riusciti ad ottenerla a farlo parlare con un timbro di voce un po' più alto perché mi ricordo che una delle lamentele era sempre Pasquale parla troppo piano secondo me parli ancora troppo piano quando parli in tv ma d'altronde ognuno ha il suo timbro di voce lei un pochino più lento ci capiamo un po' meglio sì il problema è che siccome siamo condigentati come tempi cerco di dare più informazioni possibili e di conseguenza accelero come grazie Carlo ne torno conto purtroppo caratterialmente alla fine di tutta questa storia Pasquale sarà un perfetto parlatore televisivo dovrà fare qualche corso comunque non fa male a prescindere insomma anche perché tu il tuo lavoro a prescindere dalle ospitate in tv tu sei una persona che ha a che fare con il pubblico con la gente per cui devi essere chiaro anche quando non sei seduto su queste poltrone sì allora innanzitutto il personale innanzitutto il fatto di parlare a voce bassa è una tua caratteristica io ti conosco da sempre praticamente hai sempre parlato tra l'altro non sopporto quelli che parlano ad alta voce quindi questa è una caratteristica di fondo purtroppo non ci posso fare niente è una cosa di origine e non ci posso fare niente sul fatto di non parlare velocemente questo capita qui perché chiaramente avendo il tempo diciamo limitato uno cerca di dare più informazioni possibili in questo in questo tempo limitato per quanto riguarda l'acqua abbiamo ripreso il filo nota nota vicenda che diciamo dell'acqua non potabile e così via c'è adesso il form sono tutta una serie di azioni finalmente c'è un pool di magistrati che sta lavorando sarà anche una manifestazione a luglio i primi di luglio tra l'8 e il 9 vorrebbero organizzarla perfetto noi stiamo avviando una riflessione invece sul costo dell'acqua a prescindere a prescindere cioè oltre alla qualità dell'acqua sui costi dell'acqua sui costi dell'acqua nella nostra provincia perché è vero che ci sono anche dentro i costi di depurazione è vero è vero tutto però ci sembrano un tantino esagerato per cui stiamo comparando con altri acquedotti questi e vorremmo vederci in modo un po' più chiaro e vorremmo anche capire questo benedetto potabilizzatore di Montorrio quando funziona perché non funziona cioè abbiamo speso solito 10 milioni di euro per abbiamo fatto l'inaugurazione in bomba magna dove essere la panacea di tutti i mali possibili immaginabili però puntualmente quando poi necessità non sappiamo quindi su questa cosa bisogna un attimino diciamo verificare e capire bene fare degli approfondimenti capire bene sì altra questione molto importante abbiamo inviato un'esposta alla procura per quanto riguarda la questione dei rimborso e delle multesuratie non è giusto che a parte il fatto che c'è un caccherio di fondo i soldi sono arrivati non sono arrivati ci sono dichiarazioni articoli di stampa già da due anni fa la società ha pagato non ha pagato di fatto i rimborsi non arrivano quindi il dato che non interessa è quello finale del consumatore quindi il cittadino che pur non avendo commesso infrazione si è visto il recapitato della multa sotto la mannaia di pagare il doppio ha pagato si scopre che non era dovuto a questa sanzione perché questi rimborsi non si danno punto di domanda e quindi chiaramente abbiamo raccogliendo anche la notizia stampa facendo questo dossier avete presentato l'esposto appunto per capire che cosa sta succedendo per quanto riguarda invece l'altra questione annose abbiamo finalmente stiamo arrivando alla fine per quanto riguarda il blackout del gas quello quella cosa perché in pratica diciamo abbiamo cavaccato una sponda che non ha dato esiti positivi nel senso che la lettura che ha dato l'autorità era della sua società che era due reti gas che non era diciamo tutti questi blackout io comincio a perdere il filo sinceramente non capire più di che cosa è il blackout del gas e poi quello dell'acqua e poi quello della luce poi quello dei telefoni troppi adesso la tv a Montorio pare che i canali no? che è successo? c'è una lettera aperta del sindaco di Montorio non arrivano i canali della RAI tutto in blocco questo è vero perché anche nella zona di Crognaleta a volte succede a volte scompare proprio completamente la RAI a proposito del blackout a proposito non ci facciamo mancare niente noi siamo arrivati alla fine eh sì 8 e 3 minuti non può mancare informazione eh lo so io te lo sto per chiedere io anche perché a me la domanda me la fanno proprio chiedi a Pasquale se anche se l'orario ce la consente allora situazione funghi funghi allora intanto ci stanno le voliche quindi e quelle lo sappiamo perché diversi raccoglitori vanno e trovano ci sono ci sono condizioni molto favorevole per quanto riguarda i funghi perché c'è un'alternasse di pioggia cioè e quindi che funghi troviamo in questo periodo ci sono i turini buonissimo qualche residuale spinarolo qualche pradaiolo pare pare dicono qualche porcino nelle zone che quelli più bravi che conosciamo anche noi le zone basse sono trovati sono trovati anche i gallucci già da un po' di tempo diciamo che ci sono quelli funghi più famosi quelli che conosciamo un po' tutti ieri anzi grazie Federico mio caro amico che ieri mi ha portato una busta piena di turini grazie grazie bene Pasqua noi speriamo di rivederci prestissimo ovviamente grazie per tutte le informazioni utili che ci porti oggi un po' più lamentere che informazioni sì vabbè però era un po' che non ci vedevamo hai dovuto fare un punto della situazione su quelle che sono le lamentele delle persone e sono tante purtroppo ha ragione tra le altre cose bene la prossima volta che ci rivedremo sarai praticamente scuro scuro perché se tu già a fine maggio il primo di giugno hai questo colore della pelle non so pensare ad agosto come starai speriamo perché significa uno stato in ambiente quindi non è stato chiuso ah sì sì no no assolutamente sì ma è un'abbronzatura perché la carnagione come la tua si prende anche facendo una passeggiata sul lungo fiume la tua è un'abbronzatura io non voglio scavare non voglio indagare non mi voglio permettere di invadere la tua privacy ma la tua mi sembra proprio un'abbronzatura da vacanza qui lo dico e qui mi fermo grazie a Pasquale Di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robin Hood grazie davvero di cuore buona giornata e buona giornata di festa perché oggi ricordiamo che il 2 giugno è una giornata festiva grazie Pasquale arrivederci grazie anche a voi per l'attenzione questa trasmissione come sempre torna in diretta anche domani mattina dalle 7 alle 8 e domani mattina troverete Alessandro Di Emidio grazie ancora buona giornata di festa a tutti buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti